Si allarga l'inchiesta sull'ospedale rumoroso. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sulmona, Alessandra De Marco, ha firmato l'ordinanza con la quale dispone indagini supplettive in ordine al reato ridisturbo dell'occupazione e del riposo delle persone contestato all'ex manager Roberto Testa, l'ex direttore sanitario dell'ospedale dell'Annunziata, l'ingegnere responsabile della sicurezza. L'inchiesta è scaturita da un esposto depositato il 5 febbraio del 2020 dai residenti di alcune palazzine che insistono nell'area del nosocomio. Per questo il CIP ha ritenuto che per completezza di indagini sia necessario sentire e assommare informazioni tutti i firmatari dell'esposto per acquisire ulteriori elementi utili all'attività investigativa, operazione che la procura procederà ad espletare nei prossimi sei mesi. Secondo l'accusa e le segnalazioni prevenute dal quartiere, le missioni sonore provenienti dalle sale operatorie supererebbero i valori consentili dalla legge. Contestualmente, sempre il giudice De Marco ha disposto l'archiviazione del procedimento penale gemello a carico dei tre indagati. Nell'altro filone di inchiesta si contestavano le emissioni di fumo dagli impianti, ma all'epoca dei fatti nessun riscontro era arrivato dall'arta, per cui il CIP ha ritenuto che tale circostanza non appariva idonea a far ritenere che le riferite emissioni ove sussistenti potevano avere recato danno a un numero indeterminato di persone, come vorrebbe il legislatore. Il quadro è decisamente cambiato nell'ultimo periodo, quando la procura ha aperto un ulteriore fascicolo a carico dell'attuale rappresentante legale Astle, Ferdinand Romano, poiché dagli esami fonometrici seguili dall'arta lo scorso novembre è venuto fuori che il rumore prodotto dall'impianti aeraulici dell'ospedale civile di Sulmona aveva provocato il superamento del limite differenziale a finestra aperta in periodo notturno. Da qui la gara d'appalto bandita recentemente dall'azienda per bonificare gli impianti del nostro comio. I nuovi rilievi sono scattati dopo l'istanza presentata dall'avvocato Valentina Di Benedetto per conto di alcuni residenti della zona. Infine risulta in corso il processo che vede sul banco degli imputati l'ex direttore generale Astle, Rinaldo Tordera, comparso ieri davanti al giudice monocratico rettribonale di Sulmona Francesca Pinacchio e il terzo filone di inchiesta, stessa accusa per un arco temporale diverso. Nei prossimi mesi arriverà la sentenza.